E ci spostiamo adesso a parlare della questione nata sulla realizzazione del nuovo portale istituzionale del Comune. L'assessore delegato agli affari generali Pietro Monte a replicare. In tutta onestà credo che questa amministrazione abbia già dato ampia dimostrazione di aver particolarmente a cuore il tema dell'informazione e della condivisione con i cittadini, delle linee portanti e strategiche della propria politica e del proprio operato per la gestione della cosa pubblica. In merito alla delibera 110 del 2012 sulla realizzazione del nuovo portale istituzionale dell'ente, voglio quindi esprimere il punto di vista dell'amministrazione e sgombrare il campo da equivoci, partendo dal presupposto che con quell'atto l'organo esecutivo non ha proceduto ad affidare alcuna prestazione a favore di nessuna ditta, né direttamente né indirettamente. Il tenore letterale della delibera, spiega ancora l'assessore, per come l'abbiamo condivisa all'interno della giunta è chiaro. Abbiamo voluto dare alla struttura l'indirizzo di rinnovare il portale comunale, che a nostro parere è obsoleto o perlomeno inadeguato rispetto alle finalità di massima condivisione che noi, amministrazione, vogliamo creare con cittadini ed imprese. Da nessuna parte nella delibera di giunta si è disposto di affidare il servizio di realizzazione del nuovo sito istituzionale a questa o quella ditta. Né d'altro canto, chiude la nota, la giunta avrebbe mai potuto farlo. Siamo nuovi ma non incompetenti e conosciamo perfettamente la differenza tra atti gestionali, dirigenziali e atti di indirizzo di competenza giuntale. E però la questione non è ancora chiara. Da Sant'Anna ribadiscono che non c'è stata, come detto, nessuna assegnazione dall'azienda dell'Aquila. Ma ovviamente non può non fare notizia il fatto che la stessa azienda, già dal 24 novembre, ovvero subito dopo la deliberazione della giunta comunale, a firma dell'allora vice sindaco Monte, ha pubblicato sul suo sito la comunicazione di aver ottenuto la commessa di realizzare il nuovo sito del comune di Alghero. Come vediamo nelle immagini, l'azienda Internet Soluzioni conferma di aver ricevuto questo incarico dal centro catalano al fine di realizzare il nuovo portale istituzionale. La scelta tecnologica del comune Sardo conferma la leadership di mercato della piattaforma IsWeb, altro livello qualitativo e estrema specializzazione nel settore. E domani, venerdì 30 novembre, lo spazzamento delle strade interesserà la via De Gasperi nel tratto da via Canepa a via Giovanni XXIII. Il mezzo meccanico entrerà in azione a partire dalle 8 fino alle 9.30, orario entro il quale sarà vietato parcheggiare e transitare. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.